Ciao a tutti e questa è Marina di Vecchiano Beach and Sea. C'è l'acqua anche qui e a volte mi piace andare a camminare in l'acqua. E qui mi sento che sono a casa quando vengo a visitare l'acqua e l'acqua e il mare. Oggi c'è un'acqua, non è un giorno di sole e la temperatura è ok. Allora quando io vengo a camminare qua mi sento come a casa. Do ad accamminare nella pineta oppure qui sulla spiaggia al mare. Chissà se si trova un cinghiale che ce ne ha trovato. Un cinghialetto. Un albero qua bello, fa tutti i cosi. Mi sembra un po' migliorato il cielo, guarda. Sembra un po'... è nuvoloso in alcuni punti, ma alcuni punti di pomeriggio mi sa che migliora e diventa più bello. Chissà chissà se mi viene a trovare un cinghiale, oh. Eh? Vieni, vieni. Vieni cinghialetto, vieni a trovarmi. Vieni, vieni. Vieni, vieni cinghialetto, vieni a trovarmi, vai che ti riprendo con la videocamera. Vieni cinghialetto, vieni cinghialetto. Temperatura va bene, dai. non è che è caldo diciamo che non è ne caldo ma nemmeno freddo forse c'è un po' di vento non c'è nessuno a Camino o qualcuno c'è guarda c'è due c'è turisti qualche turista che gira qui facciamo attenzione vorrei che ci sia qualche sasso volevo dire qualche chiodo qualche sasso che ci sia qualche chiodo qui stanno tagliando tutta la legna cioè volevo dire puliscono la spiaggia e dove c'è tutti questi cosi qua stanno pulendo la spiaggia fa attenzione a dove cammino perché se no rischio di farmi male ora vi faccio vedere com'è tutta la spiaggia guarda ora vi faccio vedere un 360 gradi una giornata un po' così così una giornatina un po' così così c'è qualche pescatore c'è qualche pescatore un paio di pescatori qualcuno che sta andando su una su un gommone ed eccoci al mare è tranquillo il mare non è troppo mosso ma non è nemmeno mosso è calmo il mare eccoci io tra l'altro non vedo nulla sullo schermo perché non si vede nulla dai non è male eccoci mare profumo di mare con l'amore tu vuoi giocare con questo mare profumo di mare con questo mare profumo di mare e un po' vedi è pulito ma mi sembra di sì via con l'amore con l'amore ora guardo se riesco a riprenderla ora guardo se riesco a riprenderla vediamo un po' se la vedo perché qui non si vede mia è qui la linea dell'orizzonte eccola ora la vedo ecco la vedo ora magari non uso troppo lo zoom se non riesco a tenere bilanciato cosa ce l'ha fatto il tetto che non capisco il tetto di cosa ce l'ha fatto non capito è quello che è fatto io ho visto è fatto di legno o di plastico un brano di verde un brano di verde e quello è affare nero che vedi sopra è la come si diceva la tenda che è stata, sì la tenda, la vela che è avvolta nella protezione. Provo a riprenderlo. Se lo vedo, perché non lo vedo. E non vedo nulla. Non si vede nulla, non si vede. Non lo vedo mia l'elicottero. Poi c'è il riflesso. Ora non lo vedo nemmeno più. Sento il rumore e lo vedo.